Quadrado ha recuperato un buon pallone, Quadrado ha visto lo spazio, Quadrado se ne va, attenzione qui è uno contro uno con Rossettini, Quadrado le sue finte, Quadrado in aria, ancora Quadrado, adesso è solo, che azione, Rete, Lecce 3, Siena 1, costo costo del colombiano al 37esimo. Grazie. Grazie.